Amici di pillole Ragazzi ho fatto appena 2.90 Che roba Bene, come avete capito Siamo in Germania Da dove non ci sono limiti E' una delle esperienze più belle della mia vita Siamo con una 4C Spider E una Giulia Quadrifoglio Ci che mettiamo in macchina E si parte Che sogno è questa altostrada Anche se non sembra Oggi in realtà stiamo lavorando Siamo qui al Motor World di Stoccarda Oggi ospita il raduno internazionale 4C Noi siamo qui con il club 4C Spice Vabbè è inutile che sto qui a parlare Faccio vedere direttamente un video Si vede che rompiamo Ma questa è la sinistra Non so farò niente quasi Che vinto Io direi adesso partiamo E si torna verso Zurigo per poi scendere a Milano Abbiamo fatto il pieno Quanto ci costano Com'è guidare una 4C? Tutto quello che serve in un'auto Qui non c'è Scocca in carbonio È una macchina su cui non puoi distrarti Perché lo sterzo è leggerissimo Sente la minima imperfezione della strada Però è anche diretto Quindi tutto quello che tu vuoi fare La macchina fa Ancora si sta per la benzina Una posizione di guida da forza Un bilanciamento dei pesi che rasenta la perfezione Un motore che quando serve c'è E poi chissà E lì come sarà su questa macchina Sono proprio curioso di vederla Bene Siamo arrivati a Milano È stato un piacere essere Il vostro driver questo weekend Che facciamo? La compriamo? Iscrivetevi al canale YouTube Mettete like alla pagina di Facebook Condividete il video Se vi va E ovviamente Divertitevi perché il weekend è questo E soprattutto Sporonare!